Sono in undici concorrenti al Via, Ricky Gilles in questo momento il favorito, la quota di 2,60 per lui. Ha sbagliato Real Estate rimanendo lontana. E intanto la macchina stacca, rende la luna di Galoppo. Rosa dell'Est che si avvantaggia, ridosso Racing Wing che sbaglia a sua volta. E allora Rosa dell'Est scavalca Rasti Capar con 200 iniziali in 14. All'esterno Ricky Gilles, in corda Revenge BF. Poi sbaglia intanto Rosa dell'Est e così su Rasti Capar si presenta Ricky Gilles, in corda Revenge BF. Poi Real Med SM ancora allo steccato Regina dei Greppi, Ricky Gilles che passa dopo 4,50. E adesso si va verso il completamento dei primi 600 metri. Ricky Gilles in vantaggio, Rasti di rincalzo. Poi Revenge BF, Real Med SM. Ancora Regina dei Greppi, Restella of Brown. Più indietro Rebus, ancora più lontano. Real Estate, lontani, Real Estate Racing Wind. 600 in 46, adesso Ricky Gilles approda il paletto degli 800 iniziali. Ricompleta in 1,3 e scarso sul finire della curva di sinistra. Accenna all'uscita Real Med, accenna al controllo Revenge. E Revenge viene via con più risolutezza all'imbocco della retta opposta alle tribune. Intanto Ricky Gilles approda al chilometro sul piede dell'1,19. Alle sue spalle, sempre Rasti Capara, Largo Revenge. Poi Real Med, ancora Regina dei Greppi. 19, primo chilometro, mancano 400 alla conclusione. I tre quarti di miglio in 1,34. Abbondante per Ricky Gilles che è incalzato da Revenge BF. In corda Rasti Capara, Largo Real Med SM. Terminata la curva conclusiva, ingresso e la retta di arrivo. Ricky Gilles in vantaggio, Revenge che prova l'attacco. A centropista Real Med, di dentro Rasti Capara. Ricky Gilles al comando, Real Med ci prova, di dentro Rasti. Revenge ha finito lo spunto. Ricky Gilles controlla bene fino in fondo e vince. Davanti a Real Med, Rasti Capara, al terzo posto. Vi assicuro la mia postazione è molto in alto, ma si sentono fino a qui le urla del proprietario e allevatore di Ricky Gilles. L'appassionatissimo Riccardo Battolla che ha accompagnato tutti gli ultimi cento metri del suo pupillo. Ricky Gilles che vince con Edoardo Baldi per il training di Alessandro Baldi. Il tempo al chilometro, direi nell'ordine dell'1,18 scarso. Grazie.